Sindaco, come replica alla dichiarazione del suo collega, primo cittadino di Messina, Cateno De Luca, in merito ai finanziamenti che ha ricevuto Biancavilla sulla questione Flore Denito? Sì, sono rimasto stupefatto ad aver appreso dalle parole, soprattutto veicolate attraverso il profilo Facebook del mio collega Sindaco, Cateno De Luca, riguardante la questione dei finanziamenti che Biancavilla ha ricevuto nel passato. Sono rimasto stupefatto perché ha paragonato due vicende che non devono essere paragonate, soprattutto per la causa, più che altro per l'effetto da cui ne derivano le problematiche. La nostra città vive una problematica che è importante, che è quella dei malati da Flore Denite. A Biancavilla si è attivata una bonifica del territorio da oltre 25 anni, ma il collega non era preparato sull'argomento, ha sparato delle cifre a caso, come se Biancavilla avesse ricevuto 300 milioni di euro, cosa che non è vera, e mi sono sentito in dovere di rispondere, soprattutto nel rispetto dei miei concittadini, ma soprattutto nel rispetto della verità.